battiti live all'inizio come qual è il morale guarda mi batte forte il cuore boom 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 per restare in tema esatto per rimanere in tema no c'è una forte emozione siamo veramente felici sono affrodata qui oggi e questa sarà le prove domani il grande giorno non vediamo l'ora ci sono un sacco di ospiti un sacco di cantanti una serata magnifica e quindi tanto tanto divertimento tanta musica e tante belle cose come è nata questa chiamata per battiti guarda mi hanno chiamata mi hanno chiamata e mi hanno proposto insomma appunto battiti all'inizio io ne avevo già sentito parlare e devo dirti la verità accettato subito accettato subito perché mi andava di condividere insieme a loro questa esperienza bellissima nuova che mi arricchirà ancora di più e che mi insegnerà un sacco di cose quindi ho detto subito sì perché una stagione fondamentale importante con matari made in sud e adesso battiti live ma devo dire sì guarda matari mi ha dato una soddisfazione enorme perché insomma interpretare il ruolo di quella spia francese è stata insieme a john savage dagli attori importanti è stata una grandissima soddisfazione mi sono incimentata in questo ruolo nuovo per me ed è stato bellissimo made in sud insomma la stagione televisiva come di sud è andata bene mi ha dato sempre un sacco di anche di soddisfazione e adesso poi è arrivato battiti live quindi grazie a dio tutto benissimo non posso lamentarmi sono cose belle per il momento vacanze rimandate giusto vacanze rimandate cercherò di fare qualche giorno e poi sempre a lavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti